Assessore Pietro Quaresimale, si apre un ottobre particolare per l'assessorato al lavoro perché effettivamente la Regione lancia una sfida non indifferente ma soprattutto apre una porta importante ai cittadini? Sì, è un'iniziativa che ho voluto fortemente, supportata dal Dipartimento, abbiamo rinvenuto dei residui del Fondo Sociale Europeo e vista la pandemia, quindi diciamo un distaccamento tra l'agenda e l'istituzione che già di per sé c'è, ho voluto che la Regione appunto scende in piazza con questa iniziativa Europa sotto casa per illustrare le tante misure che metteremo in campo con la nuova programmazione dell'FSE ma anche con Goal, tutta una serie di iniziative per ingrociare domande e offerte di lavoro coinvolgendo tanti partner, tante aziende e c'è la possibilità per giovani disoccupati, inoccupati fare anche dei colloqui, c'è un'apposita piattaforma in cui ci si può registrare e quindi il giorno stesso dell'iniziativa si parte con terra ma poi la faremo anche nelle altre province di fare un colloquio, però l'obiettivo è quello di avvicinare l'istituzione alla gente, delle volte molte persone sono restie ad andare negli uffici ma anche nei cittadini per gli impieghi dobbiamo riqualificarli, rivalorizzarli, anche lì ci sono delle somme per potenziare, per cercare di profilizzare le persone affinché si possono inserire nel mondo del lavoro. Io girando le aziende dell'Abruzzo spesso i datori di lavoro mi dicono che sono in cerca di alcune maestranze ma mancano dei profili specifici, quindi spettano l'istituzione e qualificarli con l'alta formazione, la formazione specializzando. Con gli ITS già ce ne sono cinque, adesso c'era un altro in provincia di Terno sul turismo, quindi lo scopo di questa iniziativa è quello appunto di mettere in campo queste misure e farle conoscere andando incontro alle esigenze del territorio. Per chi si aspetta di arrivare in piazza e trovare lavoro diciamo che non è così facile ma sicuramente sarà un modo per avvicinare come ha detto lei, dunque cercare di capire quali sono le maestranze e capire quali sono poi le capacità di chi cerca lavoro. Certo che la decisione ultima rispetto ad una occupazione viene rimessa al vertice dell'azienda, noi quello che dobbiamo fare è metterli in contatto per cercare di vedere se ci sono dei profili che possono entrare immediatamente nel mondo del lavoro o quantomeno gli possiamo consigliare tramite i centri per l'impiego, le agenzie del lavoro, qual è il percorso formativo che può agevolare un disoccupato o un giovane a trovare un'occupazione. Grazie a tutti.